Funwick.it, sono ancora qua e ringrazio, così Marco Carter assicura i fan dopo aver svelato a NuovoTV che ciò che l'ha costretto ad un'operazione allo stomaco e al ricovero non era soltanto un'ulcera. L'artista afferma di star bene e di curare la ferita che mostra senza vergogna su Instagram, sarà una cicatrice che mi farà riflettere molto in futuro. Ho temuto di non risvegliarmi. Quando ci stai per lasciare le penne, capisci che viviamo dando la priorità alle cose sbagliate, ha riflettuto l'artista che presto sarà giudice nel talent di La Sette e Band, ho capito che quando si ha la salute, basta davvero solo rimboccarsi le maniche per poter ricominciare. Il gesto di Chiara Ferragni contro il cantante, ecco cosa ha fatto la futura moglie di Fedez. Grazie a tutti.